Roberto Tosetto è il direttore dell'Interporto di Padova. Io credo che sia, senza togliere niente ad altri, direttore credo che sia ai vertici nazionali e ai primi posti in Europa. Siete ormai alle nozze d'oro, a momenti in luglio, 50 anni di storia. Cos'è cambiato? Che abbiamo fatto un lavoro continuativo, in una direzione che è quella dello sviluppo dell'intermodalità, senza mai perdere di vista questo obiettivo, perché lo ritenevamo strategico allora, quando siamo partiti, e ancora di più oggi, che vediamo che il mondo sta andando verso questa direzione. Quindi, fortunatamente, non è cambiato nulla. Ci credevamo prima, ci abbiamo creduto durante e continuiamo a crederci adesso. Senti, direttore, qualcuno lotta ancora con i treni a 750 metri, per voi è storia? No, è un ragionamento. Bisogna sempre fare una valutazione delle opportunità. Il treno a 750 metri non è la ricetta magica se assieme non si creano anche delle soluzioni collegate. Come è utile quello a 450, a 550? L'importante è che tutto funzioni in maniera coordinata, per far risparmiare il tempo, mantenere i costi e salvaguardare l'ambiente. Perché un'altra delle nostre caratteristiche, su cui stiamo puntando, è sviluppo sì, ma sviluppo compatibile. Non a parole, non con cipria, dico io, ma con sostanza. Quindi, il green significa usare motori elettrici, produrre energia alternativa con pannelli solari, diventare quindi autonomi da un punto di vista energetico. Noi siamo particolarmente soddisfatti perché produciamo più energia green rispetto a quella che consumiamo. L'ambiente lo sapevo perché ci siamo già incontrati, direttore, anche lì siete praticamente promotori in Italia. Per quanto riguarda la tecnologia, anche lì penso avete da fare ancora aggiustamenti e soprattutto anche in infrastrutture prossime. Sì, certo. Noi stiamo aggiungendo tecnologia a tecnologia perché è un percorso che non deve creare disservizi. Quindi, dopo i gate automatici, siamo andati verso la guida da remoto e procederemo con l'automazione della parte del termine per arrivare a un periodo di medio tempo, circa 5 anni, alla totale automazione del termine. Importante è dire questo perché purtroppo c'è tecnologia e tecnologia. Noi puntiamo una tecnologia che faciliti il lavoro, ma non che riduca il personale. Quindi noi stiamo andando verso un mantenimento, anzi continuiamo a crescere comunità perché la tecnologia che va a servizio della persona e del cliente è quella che secondo me è più rispettosa di tutto il nostro essere comunità imprenditoriale e civile.